In occasione della visita del Santo Padre a Torino, l'Associazione Argentino-Italiana Piemonte ha presentato una serie di iniziative per conoscere il paese sudamericano, dove vivono oltre 6 milioni di cittadini d'origine piemontese. A Palazzo Lascaris si è tenuta una conferenza sul tema «Le principali attività agricole argentine, importanza commerciale, realtà locale e compatibilità con il territorio e l'ambiente», con l'Università di Torino e l'Accademia di Agricoltura.